La pallavolo Cirignola soffre tanto ma vince. Nella sesta giornata del campionato di seghetti femminile, le Fucsia, allenate da Michele Valentino, hanno battuto al termine di un'estenuante ed intensa partita la Pega Molvetta per 3-1. Che le difficoltà contro la terza forza del campionato erano ampiamente attese alla vigilia. Le Ovantine giocano con grinta e determinazione, dando vita ad una battaglia intensissima sul filo della tensione più pura. Venti i primi due avversiali 25-19-25-21 subiscono il ritorno delle avversarie in un terzo set che termina ai vantaggi per le ospiti 27-25. Ultima operazione punto su punto ma i vantaggi premia le Fucsia in un entusiasmo di fine gara da batticuore con vittoria e primato consolidato.